A Leonforte, presso il secondo circolo Branciforti, è stato realizzato un altare dedicato a San Giuseppe per far riscoprire ai bambini il valore e l'importanza delle tradizioni ed educarli al valore del passato e dal senso di orgoglio per le proprie radici. L'altare è stato realizzato con materiali riciclabili e con la compartecipazione organizzativa di nonni, genitori ed alunni. Tra le diverse attività legate alla tavolata di San Giuseppe, quella della riscoperta delle preghiere in dialetto locale e quella del cosiddetto angolo della condivisione, un banchetto posto accanto all'altare per raccogliere beni di prima necessità da donare alle famiglie più bisognose della scuola e dell'intera comunità.